caro nick qui siamo nella mia sala di incisione di villa panfili con la mia chitarrina acustica tacamine col mio microfonino che poi era anche il tuo ed è antonio pezzullo samsung da 30 euro e la scheda audio berlinger euforia e basta con la cuffia la cuffietta sennheiser collegato alla scheda audio ecco qua il cavo tg che te lo faccio vedere se si riesce a vedere eccolo qua cavo tg collegato al cellulare oppo 9 a 8 giugno 2021 ciao nick un abbraccio e anche tutti i musicisti organizzatevi suonate all'aperto suonate nelle piazze e nelle ville sempre per odare il signore lode gioia ciao nick